E Massimiliano Castaldo, 16.000 euro scommessi, 2.18 Lincoln G, 3.78 Lamoureuse, 6 Laliax, mancano 100 metri al via, l'allenamento si va a completare, non è a rete di Bellulabar che rinuncia la partenza così come è Laliax, due scattiste che non partono, lo stacco con Lamoureuse veloce insieme a Lincoln G, di fuori c'è Landolfo, Lincoln G insiste su Lamoureuse che gradendo correre sotto lo lascia andare, Landolfo cerca di mettersi terzo la corda, lo strappo di Lincoln G in 13.6, normale per la categoria, Lincoln ha ottenuto quello che voleva, la testa è il favorito, 2.07 il totalizzatore, Lamoureuse è seconda avanti a Landolfo, quindi Libia Jump che va di fuori tagliando fuori, ecco il gioco di parole, Lusinga in coda, Libellulabar. Si arriva dopo 500 metri tattici con Enrico Bellei a tirare indietro, in coda c'è Laliax, Lincoln G non sta facendo assolutamente nulla, 600 in 45.7, 32 dopo lo strappo, Libia Jump risale di fuori una volta che ha deciso di anticipare Lusinga e si porta a contatto di Lamoureuse quando siamo verso la metà gara. Gli 800 se ne vanno in un tattico 1 minuto e 4 decimi, 38 i secondi 4 con gli ultimi due più svelti di quelli di prima, ha infatti allungato Lincoln G una volta che Libia Jump si è presentata nelle sue vicinanze, quindi Lamoureuse seconda sotto, gli altri che per adesso faticano un po', il chilometro in 1.14.6 ma 28.8 dal palo metà letto opposta, accelerazione secca per Lincoln G sotto l'attacco di Libia Jump, Lamoureuse che avrà il problema di trovare la destra libera, poi Landolfo che rientra a Lusinga che non insiste, 400 dal palo, 28.1 il parzialo, 28.6 tre quarti di miglio, con Libia Jump sempre all'attacco di Lincoln G che si premura di cercare di tenere chiusa Lamoureuse che dovrebbe fermare per uscire ma non ha troppo spazio per farlo, ci prova adesso, ingresso della retta d'arrivo ma con Lincoln G ancora in controllo, Lamoureuse che è rimasta dentro perché Libia Jump è sempre lì di fianco a lei, Enrico Bellei si volta a destra, Lincoln G è sempre in evidenza, Lincoln G allunga quel tanto che basta per vincere a tirare indietro, il triplo per Enrico Bellei che ha giostrato sul ritmo, prima fermando, poi allungando, una corsa perfetta, Lamoureuse rientra, Libia Jump 29.3, gli ultimi 4, 1.57.8 a tirare indietro, ancora una vittoria, la terza a seguire per Lincoln G che da quando è passato in training a Olga Reilert continua a mettere successi, tripletta per Enrico Bellei, questa è per Olga Reilert, i colori Dario Gariglio, 2.07 al tot, 1.13.6.